vabbè ho capito sei pure all'altra parte del mondo ci vuole un po' di tempo alle volte le cose non entrano subito però uno ci riprova, ci va piano piano sempre piano piano non bisogna avere fretta nella vita come stai a me? bene dai diciamo bene non ce la faccio più è dura senti ma ti vedo sempre che ti alleni ma è vero oppure? no valleno giuro mi sono mai allenato così in vita mia cos'è che fai più di tutto? corsa? corsa e scale io odio correre a me lo dici 25 anni ho camminato ma noi facciamo correre il pallone scusa? no sì perché in teoria conta anche quello no? soprattutto bravo c'è chi corre il pallone e chi fa correre il pallone esattamente no vabbè anch'io faccio un po' di corsa adesso settimana scorsa ho comprato una bicicletta sì? perché sì perché non lo so beh ti sei ricordato presto sì infatti no vabbè ma la cosa guarda che è figo anche in bici eh è bello è diverso ma tu vai perché qui noi possiamo anche uscire non è che ah sì? che devi stare in casa per forza quindi se uno vuole fare sai quel periodo in Italia dove potete ancora andare al parco fare le corse sì all'inizio diciamo prima che scoppiasse tutto noi ancora non abbiamo questa iscrizione quindi possiamo ancora farlo e allora prenderà tutto qua noi no invece rinchiusi a casa però però adesso ci sono buone notizie no? perché fra poco sì in teoria in teoria infatti in pratica voglio vedere anche perché poi il 4 dicono tutti il 4 maggio però il 4 maggio pure pure se esci è tutto chiuso no? poi sicuramente sarà totalmente diverso beh quello sì vediamo un po' già che esci da casa è la vittoria sì sì bisogna sempre poi sai tutto quello che si farà dopo deve avere deve avere testa deve avere testa cioè non è che è finito tutto no? cioè è una piccola apertura è una piccola apertura per quello che che dovrà succedere dopo infatti dovremmo essere bravi in quello poi no? perché poi sai che appena danno via libera veramente succederà il caos in tutto e per tutto tutti che usciranno tutti che vogliono andare ovunque no? senti una cosa ma ma appena si uscirà per davvero no? tu hai pensato a che cosa fare la prima cosa che farai io prendo la macchina vado in giro vado in giro per strada e sì fai tre ore in giro no ti giuro faccio il giro dell'accordo la mattina alla sera H24 oddio a libertà a libertà adesso hai capito tante cose poi della vita hanno fatto anche riflettere questi due mesi di pandemia ah per forza ci stanno i pro e i contro diciamo come tutto ma anche puoi scoprire i tuoi limiti no? dove pensare di essere ma anche i caratteriali eh? esatto poi dalla parte c'è la fortuna che stai tutti in famiglia che ho i figli la moglie tutti quanti alla fine poi rifai gruppo no? come si dice che poi alla fine fondamentalmente durante la giornata tutti insieme non ci stai quasi mai perché loro c'hanno scuola poi il lavoro una cosa un'altra ritorniamo a casa che sera a cena sì una cosa un'altra poi chi va a dormire è che alla fine finita la giornata poi tutto il giorno invece qua H24 boom 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 però tutto il giorno senti ma spiegami sto padre perché non ci hai mai giocato? sì non ci ho mai giocato ancora ah ma a tennis hai i giochi tu? a tennis sì un padre è un po' diverso vabbè il padre è un altro sport però se sei capace a tennis già stai un livello superiore è bello eh se inizi la prima volta impazzisci lasci il tennis è sicuro la cosa pazzesca è che qua con il tempo che c'è ancora non ancora i campi non hanno fatti? no no ah io vengo a farlo trova il terreno qualcuno ha fatto ha messo la rete il campo da tennis ha messo la rete sì vabbè ma è totalmente diverso però è un altro sport esatto sì perché con le barriere è proprio eh sì perché c'è il vetro capito? tu puoi giocare con il vetro è divertente rispetto al tennis il tennis è detto super è finito appunto invece lì col vetro puoi ritirare puoi mandarla in là insomma un altro modo per non correre eh ma corri eh è diverso se giochi con quelli bravi fai tutti i scatti dei due o tre metri eh tutta rapidità tutta velocità sì poi devi calcolare i rimbalzi devi calcolare tutto cioè fondamentalmente noi sotto sto punto punto di vista siamo un po' avvantaggiati perché sai che il giocatore lo sportivo riesce un po' a capire dove può sbattere la palla come può rimbalzare tutto capito? se c'è effetto o non c'è effetto però è uno sport divertente dai organizziamo dai imparate se poi ti insegno un po' di trucchetti poi perché ci sono i trucchetti anche lì eh beh un po' di furbizia ci stai palla corta palla lunga eh vabbè vabbè senti a casa com'è tutto bene? tutto bene tutto bene adesso anche qui i bambini fanno sta scuola online casino poi vediamo più che altro poi per il discorso di tornare in Italia adesso vediamo quando riapriranno anche i voli e tutto il resto quello sarà sarà da eh quello per per me dopo l'estate per cui vedremo è tutto tutto da mettere in piedi sì infatti poi giorno dopo giorno bisogna pure vedere come si evolve sì sì poi qua sai come sono belli belli tosti anche qua Trump vabbè anche perché pure là è arrivata eh sì sì Trump all'inizio all'inizio no no solo l'influenza poi vabbè inizio come tutte le parti poi no sì pure qua in Italia è vero però cioè il discorso è quando tu hai visto quello che succede negli altri paesi e conosci un po' la malattia tu dovresti racionare in maniera diversa infatti dovresti essere già vantaggiato poi no eh beh sì poi ovvio che stai dicendo di decisioni toste quelle di chiudere le frontiere piuttosto che le scuole eccetera poi una volta che hanno deciso poi qui sono partiti anche qui alla grande cioè non è che hanno aspettato più di tanto vabbè voi sei americani sì 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 però si vanno per là dietro no a differenza di per esempio New York dove il problema è un po' più grande qua essendo tutto le case sono tutte lontane sole mare spiaggia oggi fa 30 gradi tutta la seconda ma è pure qua oggi ha picchiato 21-22 ho fatto vabbè stiamo andando verso l'estate è vero speriamo che ce la godiamo dai eh sì no comunque prima quando ti aspettavo stavo dicendo stavo dicendo un po' quello che ci siamo scritti anche nella chat o' Grazie.